cari amici di di pomeriggio eccoci come di consueto al nostro appuntamento del venerdì con Simone Zappacosta il nostro uomo da Milano che oggi però non è da solo scopriamo chi c'è insieme a lui eccolo ciao Simone ciao Simone insieme a te vedo con molto piacere Dile cioè Francesco Dilello ciao Francesco ciao a tutti e grazie dell'invito allora Dile ti chiamerò Dile ecco va bene allora intanto diciamo che sei Dile classe 89 abruzzese doc assolutamente sì sono nato a Urtona e vivo a Francavilla al mare quindi un abruzzese doc come dici doc di posti bellissimi tra l'altro perché sono veramente posti meravigliosi e Ortona tra l'altro ci siamo andati perché è un bellissimo teatro abbiamo seguito la stagione la scorsa nelle scorse stagioni di di pomeriggio quindi insomma conosciamo bene i tuoi luoghi e però insomma esportato ormai cittadino del mondo e soprattutto conosciuto da un uno stuolo di fan incredibili soprattutto abbiamo parlato di te con Simone nella scorsa puntata vero Simone sì settimana scorsa appunto abbiamo parlato delle prime due date del tour di Francesco di Dile abbiamo fatto vedere qualcosina abbiamo fatto vedere i fan abbiamo fatto vedere come si muove sul palco abbiamo fatto ascoltare qualche sua canzone e quindi abbiamo parlato abbastanza di lui e come promesso l'abbiamo portato qua e io vi ringrazio sia di aver parlato di me che dell'invito quindi sono qua con molto piacere ecco perché con Simone chiaramente vi lega una una grande amicizia ma lui ti ha seguito nei concerti perché tu fanno come ormai tantissime persone abbiamo proprio dei dati eccezionali degli ascolti e delle riproduzioni dei tuoi album perché siamo a più di 30 milioni eh sì io di fronte a questo numero mi sento piccolissimo come potete immaginare però sì c'è qualcuno che l'ha sentita e che l'ha mandata in giro si vede che mi ci imbarazzo ogni volta che parlo di cose carine che faccio io poi automaticamente entro in una fase di protezione emozione divento rosso e balbetto quindi diciamo che me la capo meglio sul palco che nel parlare dei risultati te la cavi molto bene sul palco e tra l'altro sei proprio in giro con il tuo tour in questi giorni in queste settimane sì infatti è iniziato il tour abbiamo già fatto le prime due date nei club e ora manca la seconda parte appunto faremo il 14 novembre a Bologna e il 16 novembre a Roma e pian piano arriveremo in qualche modo anche in Abruzzo senza svelare troppo e dare troppe informazioni però ovviamente l'obiettivo è quello di chiudere magari in anno nuovo eh la stagione appunto in Abruzzo. Eh allora mi raccomando dacci poi le date perché eh chiaramente le le diffonderemo giusto Simone? Assolutamente. Sono sempre pronto a riportare i fatti della musica abruzzese soprattutto. Sì al di fuori della regione e soprattutto dentro la regione. Abbiamo parlato la scorsa settimana appunto del eh tour che stai svolgendo proprio nel nei club e mh e abbiamo parlato poi in particolare di una canzone di una canzone che è carnevale e mh e della e di come questa canzone abbia fatto nascere poi una una collaborazione così un'intesa con Animenta. Ce ne puoi parlare? Sì è una canzone che è uscita il 6 settembre. Una canzone completamente autobiografica e quindi automaticamente mi rende mega vulnerabile neanche nel raccontarla. Eh ed è una canzone che mi ha dato la possibilità di conoscere un'associazione appunto come dicevi te Animenta eh capitanata e fondata da Aurora Caporossi che è una ragazza incredibilmente forte nelle sue nella sua attività nella sua battaglia sia contro lo Stato per avere dei supporti e dei fondi che appunto per diffondere questo messaggio di di informazione e sensibilizzazione per quanto riguarda tutto il mondo DCA quindi disturbi del comportamento alimentare. Eh grazie a questa canzone appunto appunto modo di conoscere quello che fanno e di in qualche modo partecipare anch'io nel portare nel diffondere il loro messaggio e la loro missione quindi è una canzone a cui sono molto legato non solo per quello che mi ricorda dal punto di vista appunto personale ma da quello che sta creando eh ora visto che ha sta diciamo che sta camminando bene una canzone che sta andando veramente tanto lontano da sola e automaticamente mi accorgo di come tante persone possano usare carnevale appunto la canzone per sentirsi meglio per vivere cioè per anche semplicemente per sentirsi capite e come mi è successo molte volte questa cosa mi fa anche molto piacere per trovare la forza di chiedere aiuto perché la salute mentale è un tema fin troppo ignorato e preso sotto gamba ma che andrebbe approfondito molto di più cioè io mi auguro nel mondo che vorrei che questo sia soltanto l'inizio di una diffusione di questo messaggio gigante tra l'altro ecco è forse proprio eh il il vero non so l'obiettivo che eh molte canzoni cantatoriali eh raggiungono cioè quello di diventare di staccarsi in qualche modo dal dall'autore e vivere di vita propria proprio perché ehm in qualche modo danno un messaggio e vengono vissute da tante persone ognuna a proprio modo certo una cosa che dico sempre è che la canzone è mia fino al giorno che la pubblico poi ne perdo completamente il controllo eh ed è all'inizio è stato traumatico non te lo nego all'inizio della mia carriera è stato traumatico perché vedevo la canzone andare da sola come fosse un figlio che abbandona casa quindi ero proprio geloso e preoccupato del suo del suo viaggio mentre oggi ne sono davvero orgoglioso penso che sia un po' la chiave di quello che faccio vedere come la mia creazione una cosa nata in camera mia in casa mia in treno in macchina o davvero davanti al nostro mare poi prende una strada completamente diversa entra nella vita di tutte le persone e in questo caso soprattutto di carnevale riesce a essere utile perché poi le canzoni in qualche modo devono essere utili a qualcosa anche semplicemente a farci fa un sorriso a farci fa un pianto a farci distrarre da qualcos'altro quindi quando vedo che una canzone riesce in qualche modo nel suo scopo io da autore da cantautore penso che ho vinto la mia piccolissima sfida con me stesso è così senti io ho una curiosità proprio sul tuo eh nascere e crescere poi come cantautore come come è avvenuto questo processo guarda se ti dico per sbaglio distruggo tutta la magia no per sbaglio sbaglio no diciamo che ho sempre scritto già quando ero piccolino io scrivevo io infatti mi ricordo che mi me ne vergognavo di questa cosa perché ero veramente molto piccolo e ho perso tutti i quaderni che riempivo comparò cioè oggi sarei curiosissimo di vedere che ci avevo da di in qualche modo da tipo sette anni e quindi già questa attività che facevo sempre la me la nascondevo perché poi vedevo che gli amici gli amici ci vai gli amici miei non avevano in nessun modo lo stesso tipo di sfogo personale poi negli anni ho comprato degli strumenti totalmente a caso quindi mi so comprato un piano fa una tastiera anche di nascosto perché comunque piccoli risparmi nessuno suona quindi è stato veramente una cosa contro non dico l'educazione ma contro proprio la direzione della famiglia non c'è non ci stava in nessun modo presente comprato la mia prima chitarra acusa scusa classica pagata tipo 40 euro anche meno forse nellire e ho iniziato a strimpellare cose a caso da autodidatta e ho trovato man mano la formula che poi non è una formula ma appunto il modo di riuscire a mettere quello che scrivevo sui fogli nella musica quindi è nata ti dico per sbaglio perché è uscita così cioè non c'è stata una un convincimento da parte di qualcuno non c'è stata poi diciamo che la musica quella che ascoltavo da fan e mi ha aiutato tantissimo nel mio percorso e quello diciamo che tra i cantautori più grandi italiani e il grunge americano e tante altre influenze che ho avuto nell'età adolescenziale hanno contribuito sicuramente alla costruzione del di quello che sono oggi quindi penso di averti risposto ma in realtà non lo so penso di aver buttato tantissime parole insieme senza aver capito poi se ci arrivano insieme. No no mi hai risposto una risposta tra l'altro che lascia pensare perché poi ecco quando c'è talento e c'è passione e come dire forse non serve neanche tutta la sovrastruttura no cioè in realtà sei arrivato a sei andato verso la musica in maniera assolutamente naturale. Sì questa è una cosa sicuramente bella ma altrettanto strana cioè io oggi come mi analizzo tanti anni dopo dico questione di dettagli e potevo prendere un'altra strada cioè veramente questione di millimetri invece è andata così e per tanti aspetti ne sono contento per tanti altri ci penso non ti non ti nascondo che dico magari avrei una vita più tranquilla una vita più stazionaria un po' più qualche ora di sonno in più. Va bene però insomma sei giovane puoi ancora dormire poco dile. Assolutamente non me lo di due volte perché dopo non vorrei che rimanga anche nel futuro questa cosa. Senti Simone eh voglio aggiungere qualcosa? Sì che il discorso fatto finora è un po' diciamo racchiude l'essenza del cantautore perché non si sa come ci arriva ma è l'esigenza di esprimerti che ti porta poi a esprimerti in un in uno dei tantissimi modi. Lui ha trovato il modo della scrittura e della canzone perché aveva un'esigenza di tirar fuori qualcosa. Succede nel campo della musica di ritrovarsi così per caso a scrivere e suonare. Anzi direi proprio sì. Volevo aggiungere che eh riguardo al carnevale che quando c'è un concetto forte dietro una canzone la canzone veramente va da sola e da discografico parlando di numeri essendo entrata in top viral nelle piattaforme di streaming e nelle piattaforme social questo dimostra appunto che quando una canzone ha un'anima e un qualcosa da dire poi prende il largo la strada la trova una sola. Assolutamente 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 del resto l'arte no vive vive veramente eh di vita propria quando 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 è vera arte e non non c'è neanche bisogno di spiegarla per cui eh senti dile progetti lavori nel cassetto comunque in elaborazione cosa bolle in pentola? Sto guarda te lo dico in maniera molto dritta schietta sto scrivendo il nuovo album quindi piano piano uscirà attraverso ulteriori singoli oltre a carnevale appunto eh ora chiudiamo il tour autunnale nei club tra due settimane e sicuramente ci saranno nuovi eventi live per il nuovo anno e niente io di base sto continuando a scrivere e bene cioè in realtà è abbastanza ciclica la cosa scrivi 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 e la vai a cantare ogni tanto quindi raccontata così non c'è magia però fondamentalmente è questo però una cosa che vorrei aggiungere che non c'entra magari niente è che la musica quando non vuoi ti dà pure l'opportunità di conoscere e di approfondire persone e amicizie io appunto l'esempio che dice di te qua di simone noi ci siamo conosciuti penso più attraverso la musica che attraverso il fatto che entrambi siamo abruzzesi cioè penso che è stata la musica all'inizio il collante del nostro rapporto oggi non mi ricordo più perché sono tanti anni che ci conosciamo quindi mi mancano i dettagli iniziali però è bello vedere come anche l'abruzzo che diciamo che è un po' più stretto per gente che vuole sognare cose un po' più grandi tipo appunto la musica riserva tanti talenti che poi è vero che se ne vanno ma un piede lo lasciano sempre a casa come appunto fa simone come appunto penso di fare io che attualmente io per quanto non ci sono mai in abruzzo io vivo in abruzzo cioè io lascio casa giorni ma io devo sempre torno a casa anche simone è uno di quelli che è vero che sta sempre a milano ma appena può torna perché ne senti l'esigenza quindi e sto sicuro che ci saranno tantissimi altri personaggi persone artisti autori pittori non lo so tutto ciò che ha a che fare con la con l'arte nascosti in abruzzo che magari non riescono ancora a trovare la loro strada per emergere o per far sentire il loro messaggio quindi lancio un appello no no dai beh e devo dirti che rispetto a questa così al al fatto di rimanere abruzzesi pur uscendo fuori dai confini regionali e lavorando e producendo la propria arte o lavorando nel proprio campo al di fuori no di questa terra che insomma così è piccolina a volte è difficile però meravigliosa a proposito di questo proprio ecco proprio rete otto fa un normalmente sempre uno sforzo per andare a beccare di qui e di lì quelli che sono realmente i nostri orgogli regionali e infatti eccoti qui grazie grazie mille grazie davvero bene bene io sono molto contenta un altro del nostro orgogli chiaramente simone zappacotta il nostro uomo da milano grazie 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 ringrazio come sempre per il suo contributo enorme veramente sempre ricco di spunti di novità di eventi oggi ecco ci hai portato questa perla e quindi quindi ti ringraziamo molto ringrazio francesco di lello dile e quindi insomma mi raccomando seguitelo seguitelo nei suoi tour aspettiamo di avere in anticipazione la data abruzzese mi raccomando assolutamente sì vogliamo ora l'organizziamo per bene va bene e io quindi saluto simone zappacosta con lui ci rivediamo come sempre il prossimo venerdì con altre novità da quel di milano saluto dile ciao è stato un piacere ti segui ti seguiremo scarichiamo la tua musica i nostri i nostri telespettatori saranno contentissimi e io do appuntamento a tutti i nostri telespettatori per la nostra rubrica della dell'uomo da milano per venerdì prossimo ora vi lascio a lo studio